Io da Riminesi sono nato e cresciuto in questa città, sentivo i miei nonni parlare del teatro, di quando si andava a teatro. 386 bombardamenti, 70 anni fa Rimini ferita nel suo cuore, nella sua identità. E qui tra Piazza Cavour e Piazza Malatesta oggi è un onore immenso restituire alla città il teatro, la prima parte del suo teatro. È il primo stralcio, sono stati completati i lavori, un intervento di 6 milioni e 100, un contributo che siamo riusciti ad ottenere di 4 milioni e 800 mila euro, un lavoro partito già qualche anno fa con la precedente amministrazione che aveva voluto investire su questo teatro e poi, come capita in questo Paese che si suicida di burocrazia, mille problemi, ma abbiamo tenuto botta. Ricorsi, le ditte, i lavori che si bloccano, i fallimenti in questa crisi che ha colpito anche le aziende che stavano lavorando, quindi il fallimento di un'azienda che stava lavorando sul teatro, il tentativo di trovare soluzioni, cercare altri. Beh, oggi stiamo tenendo botta e a volte ci si può anche chiedere chi ce lo fa fare. Te lo fa fare il fatto che oggi i riminesi vedono che questa direzione di marcia, di cambiamento della città si sta realizzando, sta restituendo i cantieri. Noi avevamo detto che siamo in un bunker, dovevamo fare le fogne, le stiamo facendo, dovevamo sostituire il cemento alla cultura, lo stiamo facendo. Tre grandi contenitori culturali, la sala delle colonne al primo piano, la sala Ressi che era al ridotto del teatro e infine nel sottotetto, dove c'è l'orologio, la sala del balletto. È un onore e dal 17 settembre verrà restituito alla città questa prima parte del teatro. I riminesi potranno entrare, vedere e nell'occasione abbiamo voluto una cosa semplice e in qualche modo solenne, oppure solenne ma molto semplice. In quelle sale, il 20 e il 21, risuoneranno le note del pianoforte suonato da Giuseppe Verdi. Nel 1857 a Rimini c'era un'estate molto calda. Giuseppe Verdi è nella nostra città, quel teatro è stato, come dire, il fulcro di una prima verdiana. Giuseppe Verdi decide di presentare al mondo la roldo e decide di presentarlo al mondo partendo da Rimini. Giuseppe Verdi è qua in città, suona e accompagna ovviamente le prove della roldo con il suo piano e avremo le note di quel piano che il 20 e il 21 nell'ambito della sagra musicale malattestiana accompagneranno delle aree tratte dalla roldo. Il pianoforte è stato restaurato dall'Accademia dei musici di Fabriano e insieme al nostro coro Galli, l'Accademia dei musici di Fabriano, dei maestri concertatori e dei tenori ci regaleranno delle aree della roldo. Quindi dopo 158 anni torna un pezzo del teatro alla nostra città, torna al pianoforte di Giuseppe Verdi per una città che non si sta fermando perché quel teatro si aprirà sull'esterno verso Piazza Malatesta e offrirà ai riminesi al posto di un parcheggio degradato un'arena delle arti, della cultura e della comunità. E a fianco avremo la casa del cinema dedicata a Federico Fellini. Rimini ritorna nel mondo, ritorna con la sua storia e oggi ritorna anche con un pesto importante del suo teatro e con il pianoforte di Giuseppe Verdi.